Credo che la conclusione, il sugello migliore sia proprio nelle mani della Regione Marche dell'assessore alla digitalizzazione Antonio Maria Antonini che è assessore da poche settimane ma sicuramente tra i suoi importanti dossier che avrà sul tavolo c'è anche quello della digitalizzazione del sistema Marche, della digitalizzazione delle comunità dei cittadini e della digitalizzazione delle comunità imprenditoriali. Su questi temi la Camera di Commercio, il Presidente Sabatini, il Presidente Assessore, abbiamo lavorato intensamente producendo anche misure di intervento che favoriscono l'approccio come prima auspicava anche il Professor Magnifico Rettore Gregori. Quindi siamo sicuri, questo è l'auspicio della Giunta, del Presidente, dell'intera Camera che questa collaborazione possa proseguire sotto la guida dell'assessore Antonini e con il coinvolgimento della sua struttura che so anche qui presente all'ascolto e che ha affiancato la Camera di Commercio in questo importante servizio a favore della comunità marchigiana. Prego assessore Antonini. Buonasera, mi sentite? Perfettamente. Perfettamente. Bene. Allora, buonasera a tutti, ringraziamento particolare va al Presidente Union Camere Sabatini, Gino, amico, concittadino, compresano, che saluto con veramente tanta amicizia, che ha organizzato questo importante appuntamento. Io sono stato il giorno ieri dell'apertura, ieri mattina, con interventi molto interessanti e qualificati. Io, diciamo, avevo preparato un intervento, però capisco, vedendo un po' il momento ormai conclusivo, mi sembra anche, sentivo che c'è anche una certa, diciamo, esigenza nel chiudere due giorni molto impegnativi. Allora saluto il Presidente IGF che ho avuto modo di ascoltare ieri con molta attenzione. E mi ha colpito soprattutto la parte che lui ha sempre ribadito dell'uomo al centro comunque di tutto il sistema anche della transizione digitale, che mi vede assolutamente d'accordo, perché comunque è vero che noi parliamo di sistemi ad altissima tecnologia, però comunque sono dei sistemi che sono comunque sempre gestiti dall'uomo. Quindi l'uomo li gestisce, li crea e neanche, diciamo, il destinatario. Allora è sempre fondamentale comunque mettere l'uomo al centro del tutto e anche avere una certa attenzione verso tutto quel sistema di privacy, sicurezza, che comunque ci preserva in maniera totale rispetto anche a dei dubbi che in maniera legittima si potrebbero avere, nel caso appunto parliamo di sistemi altamente capaci di entrare nelle vite e nell'organizzazione della vita di ognuno di noi. Allora, velocemente, la Regione ha assolutamente intenzione di continuare questo rapporto profiguo con la Camera di Commercio poiché condividiamo entrambi l'opportunità di dare un servizio fondamentale al territorio, un territorio fatto sia di pubbliche amministrazioni, di comuni, di cittadini che hanno bisogno e necessità sempre di più di condividere, connettersi, essere collegati tra loro ed essere collegati alle pubbliche amministrazioni a tutto un processo, diciamo, di semplificazione e accesso facilitato. Io credo che queste siano un po' le parole d'ordine attraverso le quali la Regione ha programmato una serie di interventi utilizzando degli strumenti che ha a disposizione, strumenti che sono ovviamente riferibili al PNRR che rispetto alla transizione digitale dà la possibilità appunto di intervenire in maniera chiara su alcune misure specifiche e anche attraverso la nuova programmazione dei fondi POR e FESR. Quindi la Regione sostanzialmente cosa fa? Da un lato in pratica fa una sorta di regia un po' anche dei comuni, delle pubbliche amministrazioni, noi abbiamo il data center che è praticamente all'avanguardia con un sistema tra l'altro di certificazione sulla sicurezza dei dati e delle applicazioni software di altissima professionalità con dei riconoscimenti a livello internazionale, questo anche a garanzia di quello che dicevo prima. La Regione in sostanza dà anche l'opportunità agli altri comuni di accedere e utilizzare anche tutte le strutture per poter partecipare anche ai bandi del PNRR. Gestisce il discorso della banda larga, sappiamo fondamentale perché di fronte a un'esigenza di collegare il territorio attraverso delle infrastrutture fisiche, composte appunto di strade, di rete viarie, ferroviarie e altro, c'è quest'altra esigenza e adesso opportunità attraverso la transizione digitale di unire il territorio attraverso il digitale, quindi l'infrastruttura digitale che va a affiancare e a sovrapporsi in alcuni casi alle infrastrutture reali. La banda larga a questo punto diventa fondamentale, i comuni che hanno aderito ai vari protocolli sono quasi, sono oltre 200-250 comuni che in pratica soprattutto i comuni legati, presenti nell'entroterra che rappresentano appunto hanno magari delle difficoltà sia di connessione e che di rispetto diciamo ai centri più spostati verso il mare, centri più grandi e anche proprio di avvicinamento per la difficoltà appunto l'accesso, per la difficoltà di trovarsi luoghi spesso di difficile appunto arrivo e accesso. Allora la regione ha lanciato proprio il concetto del borgo digitale diffuso, si va ad affiancare un po' a tutti quei paradigmi che si stanno mettendo in campo per appunto sostenere, andare incontro a un territorio più fragile che ha sofferto anche sappiamo benissimo le recenti vicissitudini legate al terremoto e quindi ha bisogno assolutamente di tornare a rivivere, tornare ad essere competitivo, ad essere connesso e quindi le misure, la maggior parte delle misure che sono state messe in campo vanno proprio verso questa direzione. Per arrivare e qui vado all'aspetto che più interessa alla discussione di oggi soprattutto agli organizzatori, cioè la parte diciamo di una misura, un progetto ben specifico che noi chiamiamo SERBOR che in sostanza è sempre all'interno di questa visione del borgo digitale diffuso però attraverso la programmazione quindi che deve essere ancora diciamo attuato attraverso la programmazione Corfers va a intervenire soprattutto nello sviluppo di una piattaforma di promozione e valorizzazione di questi borghi non solo sotto l'aspetto diciamo turistico e culturale ma raccogliendo le migliori esperienze per esempio dell'artigianato creativo, del saper fare, delle competenze, dei mestieri e delle tradizioni rappresentando anche quel tessuto di piccole eccellenze del commercio locale, dell'accoglienza nelle forme appunto dell'abbergo diffuso, dell'enogastronomia, della rispettazione e così via. Quindi sono degli strumenti digitali che attraverso queste misure si mettono a disposizione di questi borghi che attraverso il digitale tornano a rivivere quindi e a creare una vera e propria economia digitale che è una sorta diciamo di nuovo orizzonte e prospettiva che va incontro appunto a un'esigenza sempre più concreta che abbiamo come regione di intervenire in maniera strutturale perché di questo parliamo per non lasciare diciamo delle aree importanti che rappresentano una fetta storica, culturale, economica del tessuto marchigiano che appunto come l'introterra formato da tutti questi borghi. Quindi in conclusione ho veramente sintetizzato l'intervento che era molto più diciamo complesso per venire incontro alle esigenze degli organizzatori. noi diciamo che la regione Marche ha questa necessità di semplificare attraverso una serie di appunto attraverso la digitalizzazione semplificare l'accesso dei cittadini alla vita diciamo quotidiana, alla vita civile e a tutti quegli strumenti che sono ormai necessari per poter rendere migliore la qualità della vita di ogni cittadino e a fianco dei comuni in sostegno diciamo tecnico, pratico, sempre attraverso la digitalizzazione e appunto anche delle imprese per quanto concerne appunto una progettazione comune sui fondi che sono diciamo a disposizione attraverso gli strumenti che poco fa ho enunciato. Quindi massima disponibilità, massima collaborazione per questo processo di digitalizzazione che ci vede i protagonisti insieme anche alla Camera di Commercio. Quindi grazie e complimenti ancora per l'organizzazione di questo importante momento di riflessione all'interno del DGF. Grazie Assessore, arrivederci alla prossima assemblea del prossimo anno in un'altra città, ci saremo anche noi ad assisterci. Mattia, grazie a tutti gli ascoltatori e buon fine settimana. Grazie a tutti. Grazie.